È una campagna elettorale molto rissosa, molto anedottica, uno che insulta quell'altro, molto dal lavoro che piace a voi, quello dei retroscena, molto poco concreta anche perché era difficile spiegare perché mai abbiamo, hanno mandato a casa la persona più competente, più preparata, più autorevole in Europa e mandando, insomma, è veramente una cosa un po' fuori di testa ed era difficile anche da spiegare. Per cui forza agli aneddoti, forza agli insulti e andiamo tutti forti. Con Meloni lei esclude una possibile... Ma per favore, intanto io la palla di vetro non ce l'ho, la signora è una mia avversaria, la rispetto come rispetto tutti. I cittadini poi decideranno da chi vogliono essere governati.